torna ad irsiena meraviglioso borgo lucano l'evento più importante dell'anno la più antica e coinvolgente tradizione popolare uno speciale appuntamento non solo per la basilicata ma anche per la puglia la festa delle sante patrone sante eufemia e maria santissima madre della divina provvidenza musica è un grandioso spettacolo pirotecnico coloreranno il magico momento della consegna delle chiavi della città a sante eufemia per le mani dell'arcivescovo in diretta dalla concattedrale di irsina sul canale youtube la solenne celebrazione eucaristica ufficiata da monsignor salvatore ligorio lunedì 16 settembre alle ore 11 in diretta dal canale in in